operazione coda di volpe indagati 12 imprenditori agricoli sequestrati beni e denaro per 700 mila euro incidente stradale sulla statale 117 bis nelle vicinanze di gela diversi feriti di vieto di avvicinarsi all'ex compagna arrestato un imprenditore di 48 anni acragas nissa ingresso gratuito per donne e ragazzi fino a 12 anni la guardia di finanza di enna ha sequestrato beni e disponibilità finanziarie per 700 mila euro nel corso di un'indagine che vede indagati per una serie di reati 12 imprenditori originari della zona dei nebrodi a disporre il sequestro è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di enna sul richiesta della procura l'inchiesta ribattezzata coda di volpe era stata avviata due anni fa per contrastare un presunto giro di frodi realizzate secondo l'accusa tramite la percezione dei fondi che l'unione europea concede per le attività agricole riciclaggio auto riciclaggio impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita e truffa aggravata per ottenere i fondi pubblici i reati contestati a vario titolo ai 12 indagati secondo la ricostruzione di magistrati e investigatori era stato effettuato l'acquisto di fondi agricoli da parte di alcuni imprenditori compiacenti attraverso il reinvestimento di guadagni illeciti originati da truffa i danni dello stato e dell'unione europea perpetrate da famiglie di agricoltori contigui ad ambienti criminali decisivo sempre secondo l'accusa il ruolo di altri indagati quali si sono prestati a ricevere sui propri conti proventi illeciti per poi destinarli agli investitori procedura utilizzata per impedire di risalire alla provenienza illegale del denaro e dagli effettivi beneficiari di tali investimenti un altro degli espedienti utilizzati dagli indagati per evitare eventuali provvedimenti di sequestro era quello di evitare una volta sottoscritto il contratto preliminare ed essere entrati in possesso del terreno di formalizzare con atto pubblico la compravendita facendo così in modo di far risultare il fondo agricolo di proprietà del venditore il quale incassato il corrispottivo e temendo il carisma criminale delle persone coinvolte tralasciava la definizione del contratto un sistema che però i finanzieri del comando provinciale di enna hanno messo a nudo grazie a una serie di accurate indagini bancarie grazie alle quali è stato possibile individuare i fondi agricoli interessati e identificare i presunti autori dei reati alcune persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli verificatosi sulla statale 117 bis centrale sicula all'altezza del chilometro 82 nel territorio del comune di gela sul posto sono intervenuti l'elisoccorso del 118 per prestare soccorso ai feriti le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e per regolare il traffico insieme al personale dell'anas la strada in un primo momento è stata infatti chiusa al transito dei veicoli dopo alcuni accertamenti eseguiti dai tutori dell'ordine e l'intervento dei componenti del personale anas è stato possibile riaprire l'arteria stradale al traffico regolato con il senso unico alternato nelle prossime ore la viabilità dovrebbe essere ripristinata in entrambi i sensi di marcia polizia e guardia di finanza di agrigento stanno indagando su un rave party abusivo organizzato nei giorni scorsi a menfi i primi sviluppi sono arrivati dopo che i tutori dell'ordine sono piombati nel mezzo dell'evento illegale sequestrando gli impianti musicali e identificando parecchi partecipanti provenienti non solo dall'agrigentino e dal resto della sicilia e dell'italia ma anche dall'estero le forze dell'ordine sono infatti sulle tracce degli organizzatori e a breve potrebbero esserci novità in merito visto che gli investigatori hanno già una lista di sospettati da controllare dopo essere arrivati sul posto gli investigatori hanno cerchiato la zona per identificare quanta più gente possibile e adesso stanno raccogliendo le deposizioni di parecchi di loro secondo quanto emerso finora non sono avvenuti incidenti nel corso della manifestazione musicale abusiva ma ci sono parecchi aspetti che l'indagine coordinata dalla procura dovrà chiarire non ha rispettato il divieto di avvicinarsi alla ex compagna e sono quindi scattati nuovi guai per un imprenditore agrigentino di 48 anni che è stato arrestato dai carabinieri e adesso si trova in carcere dopo il provvedimento emesso dal tribunale di palermo l'uomo si era visto infliggere in passato il divieto di avvicinamento alla ex in quanto accusato di maltrattamento in famiglia lesioni personali e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ma ciò secondo la ricostruzione degli investigatori dell'arma non gli era bastato visto che avrebbe ripetutamente violato le disposizioni del giudice dettaglio che gli è costato il carcere e adesso il 48enne detenuto nella casa circondariale agrigentina di contrada petrusa i fatti che gli erano costati il primo provvedimento coprono un arco di tempo compreso tra il 2019 e il 2021 periodo in cui avrebbe vessato continuamente la ex la donna non riuscendo più a reggere la situazione aveva denunciato l'accaduto ai carabinieri i quali avevano avviato un'inchiesta sotto il coordinamento della procura e una volta compiuti gli accertamenti del caso era stato chiesto e applicato il divieto di avvicinamento provvedimento ora rafforzato vista le presunte violazioni da parte dell'indagato cresce l'attesa per il derby di domenica all'esseneto di agrigento tra acragas e nissa una partita che sa di storia quasi centenaria in categorie più consone alle tradizioni calcistiche delle due città per diversi anni rappresentate in serie c con risultati lusinghieri già avviata anche la prevendita dei biglietti da parte della società agrigentina che ha riservato un intero settore ai tifosi ospiti per tale settore il costo del tagliando è stato fissato in 10 euro ingresso gratuito per le donne e i ragazzi di età non superiore ai 12 anni si prevede un importante cornice di pubblico l'acragas punta senza mezzi termini alla vittoria finale la nissa insegue il primo successo in campionato domenica tutti allo stadio e l'appello rivolto dalla pagina facebook a cragantina ai propri tifosi in casanissa si sta preparando la partita in un clima di massima serenità nella consapevolezza che non sarà affatto un impegno facile peraltro la squadra bianco scudata è reduce da un turno di riposo dopo il rinvio della partita con l'oratorio sanciro e giorgio per l'indisponibilità dello stadio marco tomaselli interessato da lavori di collocazione del manto erboso sintetico un saluto a ben ritrovati con le previsioni di tre bimeteo nella giornata di giovedì il flusso umido atlantico continuerà a scorrere su parte d'italia soprattutto al centro nord provocando acquazioni e temporali sparsi in modo particolare sulle regioni del centro osserviamo intanto la grafica della nuvolosità che ci mostra come frequenti addensamenti interesseranno il centro nord del nostro paese mentre all'estremo sud continuerà a dominare il sole passando quindi al dettaglio delle precipitazioni noteremo come soprattutto i versanti tirrenici saranno alle prese con acquazioni e temporali in movimento poi verso il comparto adriatico ma anche sul nord est non mancheranno precipitazioni sparse vediamo quindi il tempo che ci attende il tempo sarà nel complesso più soleggiato sulla val padana mentre come dicevo sulle regioni del centro sarà moderatamente instabile a tratti anche perturbato con temporali talora di forte intensità tra toscana umbria e lazio e localmente stazionari i fenomeni poi tenderanno a traslare verso il settore adriatico indebolendosi poi con l'andare del giorno mentre sul nord est non mancherà anche qui dell'instabilità inizio giornata sulla venezia giulia e poi sull'arco alpino temperature che restano particolarmente elevate con clima tipico estivo soprattutto all'estremo sud ma per maggiori dettagli consultate l'app di Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta, Servizio diurno, Pasqualino, Via Xiboli, Villaggio Santa Barbara, Servizio notturno, Eufrate, Via Filippo Turati